Bolzano, Palazzo Widman. È stata l'assessora alla sanità della provincia di Bolzano, Marta Stoccher, ad illustrare gli aspetti principali di quanto emerso dai numerosi incontri avuti nelle ultime settimane in merito alle linee guida dell'assistenza sanitaria in Alto Adige 2020. Incontri con i collaboratori della sanità nei comprensori, nei sette ospedali provinciali, con i partner sociali e con le associazioni. Gli ambiti di intervento della riforma riguardano essenzialmente tre settori. Il rafforzamento dell'assistenza sanitaria di prossimità sul territorio, la realizzazione di un modello a struttura differenziata dell'assistenza sanitaria nell'ambito ospedaliero, la creazione di una struttura amministrativa nonché di una organizzazione aziendale unitaria. Il tema dei costi è uno dei motivi per il quale è indispensabile procedere con la riforma sanitaria. Noi abbiamo visto che il costo della sanità è di circa 3 milioni e 300 mila al giorno, non è che si tratta che dobbiamo risparmiare, è solo in discussione di non aumentare di così tanto come è previsto, se non si fa niente, perché abbiamo bisogno anche di tantissime strutture supplementari ancora dove c'è tanto bisogno per quanto riguarda gli anziani, però anche i bambini, ci sono tante le aspettative e dobbiamo anche sapere che con l'invecchiamento della popolazione comunque abbiamo bisogno sempre di più soldi, però dovrebbe essere un po' meno alto il costo di ogni anno che si aumenta. Gli ospedali comprensoriali e di base vengono considerati come una unità e contribuiscono attraverso la collaborazione tra le varie strutture e la specializzazione locale ad un sistema sanitario complessivamente più efficiente a favore della popolazione. I servizi nelle strutture di periferia verranno tutelati attraverso nuove forme di assistenza. Noi abbiamo previsto adesso dei distretti che hanno dei servizi sempre più lunghi, sono i distretti dove avevamo previsto un servizio 12 ore, però anche quelli con 24 ore su 24 ore, per quello senz'altro stiamo anche rafforzando e pensiamo anche di rafforzare il territorio. Il dialogo è comunque tuttora aperto. I direttori dei comprensori sanitari saranno incaricati di organizzare gli incontri con rappresentanti dei comuni e dei comprensori per elaborare insieme alcune proposte strutturate per il risparmio dei costi e la riorganizzazione. In questo ambito si dovrà tener conto della finanziabilità, degli standard di sicurezza e di qualità, così come anche del quadro giuridico.